ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo video trick track model oggi ci dedicheremo alla costruzione di un applicatore statico d'erba utile nel modellismo non solo ferroviario ma anche militare fantasy o di qualsiasi altro genere utilizzeremo una racchetta anti zanzare ed un passino da cucina acquistati per un totale di circa 7 euro per lavorare in sicurezza poniamo l'interruttore su off e lanciamo un oggetto metallico come una vita sulla racchetta in modo da scaricare eventuali cariche presenti sul condensatore questa racchetta utilizza una batteria ricaricabile al litio e per la ricarica va connessa ad una presa 200 volt di casa avrei onestamente preferito utilizzarne una batteria il procedimento è lo stesso ma la ritengo come dire più sicura a tal proposito della racchetta ci serve la parte elettronica sostanzialmente essa rilascia una scarica capacitativa ad alto voltaggio grazie ad un condensatore in essa contenuto va detto che di per sé non è pericolosa essendo venduta ed utilizzata anche dai bambini ne sconsiglio l'uso a chi comunque non si sente sicuro ea chi magari per certi tipi di patologie nella fattispecie cardiache risultasse essere più sensibile e raccomando inoltre di tenerla lontana dalla portata dei bambini o degli animali domestici tagliamo i fili connessi alle reti metalliche che possiamo comunque utilizzare in un secondo momento per altri scopi il filo singolo rappresenta il nostro ground e lo collegheremo alla presa esterna dei due fili gialli ne teniamo uno soltanto allungo il filo relativo al ground mediante uno spezzone a cui collegherò un morsetto coccodrillo avendo a che fare con un condensatore isolo tutte le giunzioni con nastro isolante ricordo che il contatto tra i due poli genera la scarica capace di uccidere le zanzare anticipo che il morsetto del cavo ground andrà collegato alla base del terreno del plastico o del diorama che stiamo realizzando caricandolo di elettricità statica passiamo al secondo elemento che sarà necessario caricare e cerchiamo di alloggiarlo nella maniera più adeguata andiamo ad adattare il nostro passino con un seghetto dotato di lama da metallo ben consapevoli che tutti i canali di cucina probabilmente ci odieranno non contento crea un foro dove far passare il supporto della racchetta inserisco il passino nella racchetta bloccando nella posizione e fissandolo con del nastro isolante in modo da non ostacolare la chiusura del manico della racchetta stessa quel che dobbiamo fare ora è fissare il secondo filo alla rete del passino in modo da caricare di elettricità statica ciò che verrà inserito all'interno dello stesso la cosa più ovvia da fare è fissarlo con una goccia di stagno tramite il saldatore ho girato il passino al contrario in modo da avere il led di stato posizionato verso l'alto e visibile durante l'utilizzo lasciamo all'interno della racchetta le giunzioni dei fili richiudiamo il tutto isolando eventualmente il manico con ulteriore nastro isolante ed ecco pronto il nostro applicatore effettiamo subito un test ricordiamoci di non far entrare in contatto il morsetto con la griglia del passino altrimenti creerà una scintilla al momento per questa prova utilizzo un chiodo per andare a caricare di elettricità statica la base sulla quale andrò ad applicare l'erba da questa angolazione si vede meglio utilizzo dell'erba in fibre di una famosa marca di modellismo utilizzo questo attrezzo per la prima volta in diretta con voi come potete vedere le fibre rimangono in verticale attratte dai due poli elettrici non tutte dire la verità ma devo prenderci anche un po' mano non avvicinate troppo il passino al chiodo altrimenti beh devo imparare un po' ad utilizzarlo però almeno da queste immagini possiamo vedere che funziona allora come vi spiegavo prima in questo momento l'applicatore è acceso io la porto su off ma attenzione perché il condensatore mantiene una carica tant'è che se io faccio entrare in contatto i due poli ecco per l'appunto in questo momento il condensatore è scaricato l'energia io posso maneggiarlo tranquillamente riporlo senza pensieri anche se avete un animale domestico non lo so e potete star sicuri serve da fare ogni volta dopo l'utilizzo eseguo un nuovo tentativo anche per entrare in sintonia con l'applicatore stendo la colla vinilica diluita abbondantemente diluita attacco il ground attivo il dispositivo tutti i fili d'erba che poi rimangono attorno possono essere ripresi anche per mezzo di un mini aspirapolvere ed ovviamente riutilizzati possiamo apprezzare finalmente il risultato ottenuto che sia il prato attorno ad una ferrovia a un villaggio medievale o che ne so i campi attorno a minastirit poco cambia possiamo utilizzare questo applicatore in qualunque forma di modellismo con una spesa veramente bassa ripeto ho speso in tutto circa 7 euro io vi ringrazio come sempre per la visione e vi aspetto al prossimo video